E' iniziato il conto alla rovescia per Gold Italy da sabato 24 al lunedì 26 ottobre ad Arezzo Fiere Congressi. Questa edizione conferma il trend positivo che ha caratterizzato l'Arezzo 2015. Il dato interessante è che c'è interesse per gli operatori. La conferma arriva dalla presenza di oltre 260 espositori, più 25% rispetto al 2014 e 330 bai accreditati, provenienti da 98 paesi esteri selezionati grazie anche alla preziosa collaborazione con ICE, ha detto il presidente di Arezzo Fiere Congressi Andrea Boldi. Un lavoro di squadra che Arezzo Fiere porta avanti con impegno, cercando di creare opportunità di business in un mercato sempre più anonimo, puntando sul valore aggiunto del saper fare italiano. Basta un dato su tutti, i compratori esteri che oggi hanno aderito generano un volume di vendite complessivo per oltre 7 miliardi e 300 milioni di euro. Ad Arezzo per Gold Italy saranno presenti tutti i distretti eografi italiani, ma anche aziende produttrici di tecnologie innovative per la lavorazione e il trattamento dei metalli preziosi. Per offrire agli espositori le migliori occasioni di visibilità, con la regia di Beppe Angiolini è stato ideato il concorso Riflessi d'Autore, il contest dedicato al gioiello ispirato alla moda e gli estilisti internazionali in una installazione moderna ed esclusiva dedicata alla collana, con lo scopo di catturare l'attenzione di giornalisti e compratori internazionali. Infine, sabato 24 ottobre, una serata di gala importante in una location inedita e molto scenografica. Nel suggestivo chiostro del monastero rinascimentale della Badia è prevista la cena di benvenuto per i buyers internazionali ospiti di Gold Italy che farà scoprire a tutti gli invitati un luogo bellissimo della nostra città. Grazie. Grazie. Grazie.